Masterchef 12, concorrente eliminata si scaglia Bruno Barbieri, grave caduta di stile. Class uguale P1 dopo essere stata eliminata da Masterchef, Silvia Summo si è sfogata sui social in merito ai commenti pochi carini che le ha rivolto Bruno Barbieri. Class uguale P1 lo chef aveva infatti criticato l'aspetto trasondato della ragazza, di solito sei molto chic. Adesso sembra che hai fatto un combattimento, sporca, con i capelli giù, non ti sei mai presentata così davanti a me. Class uguale P1 l'ex concorrente del programma affidato ai social a sua amarezza. Ciao! Grazie a tutti.